Grazie Presidente, in realtà intervengo a titolo personale e dopo aver anche sottoscritto questo ordine del giorno di cui ringrazio il collega Filiomeni per averlo portato e proposto perché come lui ha ben rimarcato la posizione farmaca è stata una delle prime che abbiamo sfruttato in commissione ma è stata anche una delle prime su cui abbiamo dato chiaro indirizzo politico, me lo ricordo chiaramente anche con atti successivi in aula dove noi abbiamo espresso la volontà di mantenerla pubblica al 100% quindi non posso fare altro che sottoscriverla e ringraziarlo e oltretutto mi accodo a quanto appena detto anche la collega Grancio e anche quanto detto il collega Fassina e cioè sono le farmacie di Pharmacap un importante presidio sul territorio soprattutto in quei territori dove c'è più necessità di presidi e di punti di riferimento dell'amministrazione riescono a fare un ottimo lavoro e si potrebbero anche valorizzare in un modo più poco quindi i lavoratori che peraltro hanno delle enormi professionalità continuano imperterriti, impavidi direi in questa fase il loro lavoro e la loro presenza sui territori e anche se lo fanno con enorme difficoltà con enorme difficoltà perché non sanno mai quale sarà il loro futuro ecco io credo che queste persone non se lo meritano non se lo meritano neanche la città di Roma perché le farmacie Pharmacap sono veramente quanto di meglio noi possiamo avere come partecipata per quanto mi riguarda e quindi il mio sarà un voto decisamente favorevole grazie Presidente Grazie a tutti